Sì, la prossima settimana, al massimo 15 giorni, Trentino Marketing farà uscire il bando per la gestione di quell'area, per la gestione degli eventi musicali e artistici in quell'area. Quindi le società specializzate, sia trentine che nazionali, potranno partecipare, devono presentare un programma di eventi, di almeno 7 eventi nel 2023 ed almeno 10 per il 2024-2025, questo per un numero di spettatori da 7.000 a 20.000. Poi si potranno fare anche eventi maggiori ai 20.000 spettatori, ma questi escono dal bando e dovranno essere fatti singolarmente. Questo, noi crediamo, permetterà uno sviluppo e una gestione di questa arena nell'interesse del territorio trentino per eventi di questo tipo, che sappiamo essere molto interessanti anche per i giovani che in Trentino necessitano di spazi di questo tipo. Grazie.